E' una sfida per uomini veri, in casa fortitudo per contestare la loro fisicità, la loro energia, per cercare di avere prontezza mentale per fare le cose che abbiamo deciso di fare. Loro sono una squadra stra-atletica, forse la squadra più atletica del campionato. E noi siamo in una fase di grande turbolenza, della quale non parliamo, perché cerchiamo di spendere meno parole possibili. Anche perché questa squadra si merita parole di rispetto. Amici, grazie. Mancinelli, grazie. Pedersoli, Giorgio Sette, grazie. Dijon, grazie. Ande, grazie. Guardiamo. E' una sfida per uomini veri, in casa Fortitudo per contestare la loro fisicità, la loro energia, per cercare di avere prontezza mentale per fare le cose che abbiamo deciso di fare. Loro sono una squadra stra-atletica, forse la squadra più atletica del campionato. E noi siamo in una fase di grande turbolenza, della quale non parliamo, perché cerchiamo di spendere meno parole possibili, anche perché questa squadra si merita parole di rispetto. Amici, Mancinelli, Petersoli, Dijon. Grazie, Mancinelli, Petri! Ci sono tutti i due licitati, per ricordare! Però non parliamo di rispetto, per una squadra si meraviglia. Corri, pazza! Corri, pazza! Corri, pazza! Corri, pazza! Corri, pazza! Corri! Grazie a tutti. Grazie a tutti.